in un nuovo video di albion online oggi parliamo dei materiali e come raffinarli praticamente i materiali sono tutte quelle cose che puoi recuperare nel bosco nelle varie nei vari posti per esempio questa roccia o gli alberi questo albero andiamo a prendere anche la pelle della volpe allora eccola lì ma si ammazza e poi si prende la pelle poi si prende un po di legna della betulla e ci facciamo le assi di legno allora prendiamo le assi ecco qua prese ritorniamo indietro come di qua che sono le montagne innevate eccoci le montagne dove sono le montagne sono queste pietre il rame qua troviamo il rame eccolo qua ho preso il rame poi c'è il cotone che è questo qua e il cotone ecco quello che si può prendere fino adesso sono queste quattro cose qua poi si torna al covo qua c'è la fornace dove possiamo trasformare il metallo e lingotti di rame come potete vedere poi ci serviranno per fare la spada queste cose qua poi qui c'è il signore che ci fa il cuoio con la pelle della della volpe ok poi qua c'è il tizio che ci fa le assi di legno abbiamo creato altri assi di legno e qua ci abbiamo la signora che ci fa la stoffa con il cotone ecco qua queste cose sono le cose che fanno fare all'inizio per una missione per una delle missioni che serve per riparare la nave tu vai da questo tizio che adesso io non posso più parlare cioè ci posso parlare ma gli ho fatto tutto non ha più missioni per me che ti prende uno per dei materiali che tu fai no il problema che questa missione non è proprio scritta benissimo all'inizio ti chiede l'uno per di tutti i materiali e poi ti chiede dei materiali ma non ti dice che materiali vuole praticamente rivuole sempre l'uno per di tutti gli altri materiali che dovete recuperare raffinare tutti insieme e poi darli tutti insieme perché se andate con un materiale solo non vi fa non ve lo fa aggiungere sembra che non stai facendo la missione giusta e dopo che fai con la missione lì ti fa parlare con qua con mia che è questa qua no tia come cavolo si chiama con tia e ti dà la missione che ho già accettato devo solo farla che la faremo nel prossimo video e niente per i materiali è tutto buona buona continuazione al prossimo video ciao a tutti ciao